Storia di un cane Or non è molto, tutta la stampa ha risposto all'appello della società protettrice degli animali che vuole fondare un asilo per le bestie. Si tratterebbe di una specie di ospizio, di un rifugio in cui i poveri cani senza padrone troverebbero cibo e alloggio invece del nodo scorsoio che l'amministrazione dello Stato ha riservato loro fino ad oggi. I giornali in proposito hanno richiamato alla mente dei lettori la fedeltà delle bestie, la loro intelligenza, la loro devozione. Hanno citato episodi di sagazza sorprendente. Perciò anche io voglio raccontare la storia di un cane randagio. Un cane come tanti, brutto e dall'andatura piuttosto sgraziata. Questa storia, semplicissima, è vera per filo e per segno. Alla periferia di Parigi, sulle rive della Senna, vive una famiglia di ricchi borghesi. La famiglia possiede una casa elegante, un giardino molto grande, cavalli e carrozze, e numerosi domestici. Il cocchiere si chiama François. È un ragazzotto di campagna, non molto sveglio, impacciato, grossolano, ottuso, ma buon ragazzo. Una sera, mentre tornava verso la casa dei suoi padroni, un cane cominciò a seguirlo. Dapprima non ci badò, ma l'ostinazione con la quale la bestia continuava a seguirlo lo fece voltare. Guardò se per caso conoscesse quel cane. Proprio no, non l'aveva mai visto. Era una cagna di una spaventosa magrezza, con grandi mammelle ciondoloni. Trotterellava dietro all'uomo, lamentosa e affamata, con la coda tra le zampe, le orecchie incollate alla testa. Quando il ragazzo si fermò, anche la cagna si fermò, e quando quello riprese a camminare, anche la cagna ricominciò a camminare. François volle scacciare quello scheletro di bestia e gridò «Vattene! Te ne vuoi andare! Passa via!» La cagna si allontanò di due o tre passi, si accucciò e cominciò ad aspettare. Poi, quando il cocchiere François si rimise in marcia, quella ripartì dietro a lui. Il cocchiere fece finta di raccogliere un sasso. L'animale fuggì un po' più lontano, facendo ballonzolare le sue flaccide mammelle, ma tornò indietro non appena l'uomo ebbe voltato le spalle. Allora il cocchiere François la chiamò. La cagna si avvicinò timidamente, con la schiena piegata in cerchio e con tutte le costole che parevole bucassero la pelle. Il cocchiere accerezzò quegli ossi e, preso da pietà per quella misera bestia, disse «Andiamo, vieni!» Subito la cagna cominciò a scodinzolare, sentendosi accolta, adottata, e invece di rimanere ai calcagni del padrone che si era scelto, cominciò a correre davanti a lui. François l'accomodò sulla paglia della scuderia, poi andò in cucina a cercare un po' di pane. Quando la cagna ebbe mangiato a sazietà, si addormentò acciambellata. Il giorno dopo i padroni, avvertiti dal cocchiere, permisero che François tenesse l'animale. Però la presenza della bestia in quella casa diventò ben presto causa di una infinità di fastidi. Senza dubbio era quella la più svergognata delle cagne. Da un capo all'altro dell'anno, i pretendenti a quattro zampe assediarono la sua casa. Gironzolavano per la strada, davanti alla porta. Si infilavano attraverso tutti i buchi della siepe che circondava il giardino. Devastavano l'aiuole strappando i fiori, facevano buchi nei cespugli e mandavano in bestia il giardiniere. Giorno e notte era un concerto di ululati e un susseguirsi di battaglie a non finire. I padroni trovavano persino per le scale i piccoli bastardi dalla coda impennacchiata, cani gialli, cani che se ne vanno annusando le pietre e che vivono di immondizie, e terranova enormi con il pelo arricciato, e barboncini baffuti, e tutti gli altri campioni della razza abbaiante. La cagna, che François senza malizia aveva chiamata Cocotte, e il nome se lo meritava, riceveva tutti questi omaggi e produceva, con una fecondità in vero fenomenale, una gran moltitudine di cagnolini di tutte le specie conosciute. Ogni quattro mesi il cocchiere andava al fiume per annegare una mezza dozzina di quegli esseri simili a rospi che si muovevano e pigolavano. Cocotte era diventata enorme, come era stata magra, così ora era grassa, e aveva un ventre gonfio sotto il quale ciondolavano sempre le sue lunghe mammelle. Era ingrassata tutta un tratto, in pochi giorni, e così camminava con fatica, a gambe larghe, come fa solitamente la gente troppo grassa, e a bocca aperta per respirare. Se camminava per dieci minuti, era estenuata. Il cocchiere François le diceva «Buona sì, sta bestia, ma in fede mia, piuttosto sregolata!» E così anche il giardiniere si lamentava tutti i giorni. Lo stesso faceva la cuoca, perché trovava cani sotto il fornello, sotto le sedie, nel ripostiglio del carbone. E le bestiole rubavano tutto quello che trovavano in giro. Il padrone ordinò a François di sbarazzarsi di cocotte. Il domestico, disperato, pianse. «Ma dovete obbedire!» Offrì la cagna a tutti. Nessuno la volle. Cercò di farle perdere le tracce, ma quella tornò. Un commesso viaggiatore la mise nel baule della sua vettura per abbandonarla in una città molto lontana. La cagna ritrovò la strada, e nonostante il suo pancione, e indubbiamente senza mangiare, in una sola giornata fu di nuovo a casa, e tornò tranquillamente a dormire nella scuderia. Questa volta il padrone andò in bestia, e dopo aver chiamato François, gli disse, tutto arrabbiato, «Se tu non me la scaraventi in acqua prima di domani, ti butto fuori dalla porta. Siamo intesi?» François rimase allibito. Adorava cocotte. Risali in camera, si mise a sedere sul letto, poi fece la valigia per partire. Ma riflettè. Un nuovo posto sarebbe stato impossibile trovarlo, perché nessuno avrebbe voluto sapere di lui finché avesse portato in giro con sé quella cagna, sempre seguita da un reggimento di cani. Dunque bisognava disfarsene. Non poteva darla a nessuno, né poteva perderla. Il fiume era il solo mezzo per disfarsene. Allora pensò di dare venti soldi a qualcuno che si incaricasse dell'esecuzione. Ma a questa idea un acuto dolore lo prese. Pensò che forse un altro la farebbe soffrire, la picchierebbe strada facendo, le renderebbe amari gli ultimi momenti, le farebbe comprendere che volevano ucciderla. Perché cocotte capiva tutto, povera bestia, sicché decise di provvedere da sé alla bisogna. Non dormì. All'albero in piedi, e dopo essersi munito di una corda molto forte, andò a cercare cocotte. La bestia si alzò lentamente, si scosse, stirò le membra e andò a fare le feste al padrone. Allora egli sedette, e prendendola sulle ginocchia la carezzò a lungo, la baciò sul muso, poi alzandosi disse «Vieni!» Cocotte scodinzolò, credendo di andare a spasso. Raggiunsero la riva. Qui François scelse un luogo dove l'acqua sembrava più profonda. Allora annodò un capo della corda al collo della bestia, e raccolta una grossa pietra la legò all'altro capo. Ciò fatto, afferrò la cagna e la strinse tra le brazza. La baciò con furia come una persona che si sta per lasciare. La teneva stretta sul petto, la cullava e la cagna lasciava fare, mugolando di soddisfazione. Dieci volte pensò di gettarla in acqua e ogni volta gliene mancò il cuore. D'un colpo si decise e con tutta la forza che aveva la lanciò il più lontano possibile. La cagna rimase a galla per qualche momento, dibattendosi, cercando di nuotare come quando le facevano fare il bagno, ma la pietra la trascinava in fondo. La bestia ebbe uno sguardo d'angoscia e la sua testa scomparve per prima, mentre le sue zampe di dietro, che spuntavano dall'acqua, si agitavano ancora. Poi qualche bolla d'aria apparve alla superficie. A François pareva di vedere la sua cagna dibattersi nella melletta del fiume. Fu lì per impazzire. Per un mese intero stette ammalato, ossessionato dal ricordo di Cocotte che sentiva continuamente abbaiare. L'aveva annegata verso la fine di aprile. Soltanto molto tempo dopo riuscì a riconquistare tranquillità. E non ci pensava già più quando, verso la metà di giugno, i suoi padroni partirono e lo portarono nei dintorni di Rouen, dove andavano a trascorrere l'estate. Una mattina, siccome faceva molto caldo, François uscì per andare a fare il bagno nella Senna. Mentre entrava in acqua, un odore nauseante gli fece girare gli occhi intorno e così si accorse che nel canneto c'era una carogna, il corpo di un cane in putrefazione. Si avvicinò, sorpreso dal colore del pelo. Una corda marcia stringeva ancora il collo. Era la sua cagna. Cocotte, portata dalla corrente a sessanta leghe da Parigi. Rimase in piedi con l'acqua fino ai ginocchi, atterrito, sconvolto come davanti a un miracolo o ad un'apparizione vendicatrice. Si vestì subito e preso da una folle paura cominciò a camminare a caso, avanti e avanti, con la mente smarrita. Errò tutto il giorno e quando venne la sera chiese la strada che non riusciva più a trovare. Ma da allora egli non ha più osato toccare un cane. Questa storia non ha che un merito. È vera, vera da cima a fondo. Se non ci fosse stato il singolare incontro con quel cane morto in capo a sei settimane e a sessanta leghe più lontano, non ne avrei fatto caso. Se ne vedono tante tutti i giorni di queste povere bestie senza una casa. Se il progetto della società protettrice degli animali ha successo, forse incontreremo meno cadaveri e quattro zampe sbattuti sulla riva di un fiume. Grazie. 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 Grazie.